Giorgia Meloni è la leader di Fratelli d'Italia. Come mai non è sposata con il compagno Andrea Giambruno? Scopriamolo insieme. Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia che ha trionfato alle elezioni politiche 2022, non è sposata con il compagno Andrea Giambruno Come mai? La coppia ha divorziato? Andiamo a scoprire meglio insieme tutti i dettagli e le curiosità sulla vita privata e sentimentale di Meloni Leggi anche, Tocchi e Ilari Blasi, niente più sesso, lei aveva sempre mal di testa, ecco chi ha rivelato l'imbarazzante dettaglio intimo Giorgia Meloni perché non è sposata col compagno Andrea Giambruno? Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia che ha trionfato alle elezioni politiche 2022, non è sposata con il compagno Andrea Giambruno Come mai e cosa sappiamo della coppia? Andiamo a conoscere i risvolti sentimentali della vita privata di Meloni È divorziata? Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia che ha trionfato alle elezioni politiche 2022, è divorziata? La risposta a questa domanda è assolutamente no La politica vive oramai da anni un'importante storia d'amore con il giornalista e autore TV Andrea Giambruno I due si sono conosciuti durante la partecipazione di lei a una trasmissione media set condotta da Paolo del Debbio Ecco come il compagno della leader ha voluto raccontare il loro primo incontro, l'onorevole e il suo compagno i due nel 2016 sono diventati genitori della piccola Ginevra che oggi ha sei anni Innamoratissimi, almeno per ora non hanno sentito l'esigenza di convolare a nozze Per quanto i diretti interessati non si siano mai sbottonati riguardo alla questione fiori d'arancio, fonti vicine alla coppia si sono lasciate scappare Per le seguenti parole a riguardo, seguici su Instagram facendo clic qui